Ricomincia la scuola, non facciamoci trovare impreparati! Questa è arte per te, arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te E sì ragazzi, tra pochissimo ricomincerò la scuola quindi dedico questo video ai più piccoli e alle mamme dei più piccoli e alle maestre, alle insegnanti è un video all'interno del quale vi do alcuni suggerimenti per il materiale didattico artistico per i vostri figli perché è importante che anche nell'esplicazione dell'arte e immagine loro siano in sicurezza, che abbiano degli strumenti performanti e che abbiano degli strumenti che non facciano impazzire né loro né noi e adesso scopriremo il perché e sono certa che vi darò tanti suggerimenti interessanti che ho estrapolato un po' dalla mia professione nell'arte ma un po' anche dalla mia professione come mamma evitate le matite con gommino finale perché il gommino molto spesso serve A. da gioco per i bambini B. da pericoloso piccolo tools che possono staccare con i denti e ingoiarlo 3. da piccola caramella che i bambini molto spesso masticano durante le lezioni prediligiate invece le matite con chiusura della mina ok con laccatura finale una normalissima matita per i bambini meglio la matita 2B in assoluto tra tutte le matite tutt'al più un HB non hanno bisogno né delle 8B né delle matite troppo rigide che lasciano troppo forte il segno impresso sul foglio infatti date la possibilità ai bambini di sbagliare e di poter cancellare i propri errori e quindi meglio di tutti una 2B non vi dirò la marca perché le matite si perdono diciamo con la velocità di una al giorno quindi una marca vale l'altra mentre vi darò la tipologia di gomma più essenziale io qua vi faccio vedere proprio la gomma di poti con tutti i buchi praticati perché lui è un monellaccio guardate come le riduce ma qui in foto vi metto anche il packaging completo la gomma migliore in assoluto dalle elementari fino alle superiori per colorare i diari è lei la Stedler bianca è una gomma flessibile morbida grossa che si può per i più grandi anche tagliare in pezzettini e ricreare sempre gli angoli perfetti facilissima da ripulire dai vari tinteggiamenti che i nostri figli appongono su di essa quindi è una gomma che soprattutto è molto facile da impugnare per i più piccoli e che è morbida da passare sul foglio e che evita sia lo spiegazzamento del passare che la bucatura o strappatura del foglio quindi consigliatissima andiamo alle matite colorate non tutte le matite colorate sono uguali sia per qualità sia per resa innanzitutto non scegliete matite con lamina rigida che lamina sia flessibile questo comporta due vantaggi il primo vantaggio è che i vostri figli che fanno cadere sempre i colori per terra non spezzetteranno lamina e quindi non dovranno continuamente temperare le matite secondo poi è che il colore delle matite con mina più flessibile essendo ovviamente più grasso è un colore che si espande meglio quindi i vostri bambini saranno agevolati nella stesura del colore io ve ne voglio consigliare due marche ah ben inteso non è un video brandizzato alcuni prodotti mi sono stati inviati questo no l'ho comprato io a Enzo e mi sono trovata molto bene quindi ve lo propongo sono dei suggerimenti veri e sinceri su quella che è il materiale d'arte più idoneo per i vostri figli allora le matite che mi sono piaciuto un sacco l'anno scorso questa è l'astuccio 2 di Enzo le sto tirando fuori dal suo astuccio sono inaspettatamente le BIC le ho prese alla Lidl ad un costo veramente bassissimo 4 euro 3 euro 24 matite ottime ottime matite molto flessibili guardate il fusto come si piega quindi anche la mina all'interno si piega senza spezzarsi perché non sentite trunc trunc mentre fate questo gioco di conseguenza questa flessibilità della matita permette che il colore non si frantumi e quindi i bambini non saranno continuamente portati a temperarla altra matita molto 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 buona per le matite che io adesso vi faccio vedere nell'astuccio di latta ma che è venduto in tutti i supermercati anche in scatola di cartone quindi trasferibilissima in astuccio sono le Stabilo Aquacolor che se utilizzate a secco sono delle matite molto grasse hanno un costo bassissimo sui 7-10 euro 24 matite quindi un costo assolutamente accessibile è normale special se la matita poi dura un anno e se non dobbiamo cambiarla ogni tre mesi perché è tutta frantumata queste non sono flessibili come quelle perché ovviamente sono più professionali sono migliori potete darle magari già i bimi di terza, quarta e quinta elementare ma su perché io ancora queste le uso ma sono delle ottime matite che daranno il gusto al vostro bambino di passare il colore sul foglio senza sentirsi limitato nella stesura dei colori e nella gamma dei colori non si frantumano sono molto grasse quindi è difficile che si spezzino in mille pezzettini sono delle matite altamente performanti e se vorrete divertirvi con loro poi a creare degli acquerelli potrete anche acquerellarle naturalmente utilizzate un cartoncino adatto che regga l'acqua se i bambini sono più piccoli e vanno alla materna sempre di stabilo vi suggerisco questi i V di 3 in 1 sono semplici e matitoni dall'impugnatura grossa ce ne sono tanti in commercio di questi anche di marche che per la scuola sono di solito più usate più note diciamo così ma cos'è che fa la differenza un tools di cui volevo parlare una performance che è un misto tra il colore a matita e il colore a cera in più sono acquerellabili quindi vengono forniti anche col pennello e già sono tre prodotti in uno e in più hanno una cosa per cui mi hanno rapita il cuore che direte voi? ti fai rapire il cuore da poco? non è poco è attenzione e cura per l'utenza il tempera matite che è un tools di cui volevo parlare nell'astuce dei vostri figli mettete solo ed esclusivamente il tempera matite a buco piccolo possibilmente un tempera matite chiuso come questo possibilmente solo il foro piccolo perché i fori grandi sono pericolosissimi perché i bambini hanno il brutto vizio di infilare il dito e girarlo come sto facendo io adesso però io adesso non mi sto facendo nulla perché sto adoperando il temperino dato a corredo di questo set della stabilo che all'interno ha una linguetta salvadito ora io non ve la posso far vedere non so se riesco vedete? che anche se il nostro piccolino infila il dito e comincia a fare così non arriverà con la pelle alla lama la mamma sarà sempre un gradino più sotto e quindi il dito sarà protetto badate a queste piccolezze perché sono quelle piccolezze che non vi fanno correre il pronto soccorso in preda al panico e allora se ci sono gli strumenti utilizziamole volete il temperino col foro grosso che abbia all'interno la sicura io conosco questo della stabilo perché mi è stato inviato con questo set ma sicuramente se dal cartolaio chiedete un temperino con sicura per le dita dei bimbi a foro grosso sicuramente ne avrà di diversificate marche spero almeno lo spero altro accessorio molto molto pericoloso sono le forbici sono pericolose per diversificati motivi innanzitutto perché se non scelte bene possono andare a finire negli occhi dei compagnetti possono tagliare le dita dei bambini ma possono tagliare in maniera meno drammatica i vestiti degli altri amichetti per esempio un compagnetto di Enzo il primo giorno di scuola gli ha tagliato tutto l'astuccio proprio con le forbici in dotazione perché i bambini non sono abituati ad avere molto spesso questa libertà di azione con i materiali poi si ritrovano tutti assieme nell'astuccio e combinano l'inferno specie in prima elementare e allora esistono in commercio se trovo il video ve lo metto qua ve le faccio vedere proprio in uso delle forbici che tagliano solo la carta tutto il resto non lo tagliano nel video che vi metto qua vi facevo vedere come provavo a tagliare i capelli e non riuscissi la stoffa le dita non tagliano null'altro che la carta cercate questo tipo di forbice ma credo anche in questo caso che ci siano differenti marche di questo tipo di forbice vi lascio comunque di tutti i materiali di cui vi sto parlando il link qua sotto in modo che possiate trovarlo se vi serve in maniera molto agevole quindi attenzione alle forbici non mettete assolutamente le forbici per adulti ma anche tra le forbici per bambini scegliete un tipo che siano funzionali allo scopo ma che non siano assolutamente pericolosi passiamo adesso alla parte dolente dell'astuccio i pennarelli i fantastici pennarelli Enzo devo dire non è attratto dei pennarelli e soprattutto questi che erano in dotazione con l'astuccio non li ha mai utilizzati perché avendo me come mamma capite bene che quando è a casa gli do tutt'altro e gli do tutt'altro perché? perché ne ho di meglio un pennarello con cui mi sono trovata estremamente estremamente bene come potete vedere usatissimo è questo anch'esso della Stabilo anch'esso mi è stato inviato dall'azienda ma non ve ne sto parlando per questo davvero credetemi ma perché sono dei pennarelli fenomenali si chiamano i Power e sono 24 pennarelli ma ci sono in differenti pezzature ma la cosa fantastica di questi pennarelli vi faccio vedere innanzitutto è la punta la punta è così non è quella punta piccolissima del pennarello però finisce molto a punta quindi può dare un tratto se di sbiego più grande il bambino si può anche sbrigare a colorare e non si spazientisce per i più grandi però dà anche un tratto bello definito la cosa fantastica è che questo pennarello viene via con l'acqua quindi se è macchia tapezzeria del divano vestiti grembiule questo fate una lavata e va via tutto ma la cosa fenomenale di questo pennarello è che sapete come fanno i bambini che colorano e li lasciano sempre aperti e l'indomani magari noi non ripassiamo subito a chiudere i tappi e l'indomani il colore è bello che è andato questo è uno dei pochi pennarelli forse io questo solo ho conosciuto che sta fino ad 8 settimane senza cappuccio senza essiccare di conseguenza capite bene che lo spreco perché io qui sto guardando molto allo spreco è veramente pochissimo e sono dei pennarelli che funzionano molto molto bene sono molto molto buoni e sono consigliati d'arte per te sicuramente sicuramente ve li consiglio senza remora tutto il materiale che vi sto consigliando ve lo consiglio senza tema di smentita così come vi consiglio in maniera per me numero uno sin dalla scuola materna udite udite sin dalla scuola materna una nuova generazione di colori a cera i colori a cera in penna io ho questi della staedler presi anche questi se non mi sbaglio alla lidl comprati da me sono dei colori a cera inseriti in una penna in plastica perché ve li consiglio perché il bambino se lo usate alla materna si abitua sin da subito ad avere l'impugnatura corretta del colore e non un'impugnatura a pastello come sono di solito i pastelli a cera che molto spesso possono essere fuorvianti per i bambini in più guardate si girano e in maniera automatica la punta del colore viene su quindi ne escono poca e possono colorare tranquillamente e ne escono un altro po' e possono colorare evitando così quello spreco immenso che tutti i bambini fanno con i colori a cera che nasce dallo spezzettare in centinaia di pezzettini i colori a cera dal metterli nell'astuccio e dal farli sporcare l'uno con l'altro le cartine diventano sempre di quei colori sporchi improponibili che fa schifo proprio a toccarli adesso per i bambini più grandi che sanno gestirli il sano gusto del colore a cera classico non deve essere mai abbandonato ma per i bambini delle elementari che possono conservarli nell'astuccio così magari ci sono le maestre che i pennarelli a scuola non li fanno usare perché bucano i fogli se non usati bene e allora fare un comparto con i colori a matita ed un comparto con questi a cera è un'idea bellissima ma questi con la penna in supporto questa penna fa sì che in estate soprattutto perché io li ho provati durante le vacanze con il caldo a 40 gradi che c'è anche adesso come vedete dal mio liquefarmi dinanzi a voi non si spezzino e non si pieghino tra le mani quindi un colore a cera molto intelligente che lascia il gusto della pienezza e della vividezza del colore a cera senza sporcare l'astuccio senza spezzarsi in micro pezzi senza avere nessun tipo di spreco sono bellissimi complimenti alla stedlar per questa idea e questi li ho comprati io per Enzo e li usa tantissimo gli piacciono un sacco questo consiglio mi sembra un po' superfluo ma ve lo do lo stesso mi raccomando gli astucci per i bambini devono essere astucci rigidi che parino i colpi dei libri che vengono inferti nel trasporto dello zaino e le reiterate cadute che i nostri figli infliggono a questi strumenti il portacolori l'astuccio rigido fa sì che le botte vengano attutite quando cadono quando sbattono quando urtano e quindi che i colori e le matite mantengano le mine preservate e salve al loro interno in più stimolano la creatività del bambino che vedendo la gamma colori viene spinto all'utilizzo di una gamma colori più vasta e in più viene messo dinnanzi al suo occhietto tutto il range dei colori disponibili cosa che non si ha mettendo i colori nell'astuccio a tombolino quella sacchettina insomma quindi non usate astucci a tombolino alle elementari usate sempre astucci rigidi ce ne sono di bellissimi quindi sbizzarritevi e scegliete il vostro personaggio preferito quello di Enzo naturalmente e Super Mario adesso parliamo dei supporti sicuramente gli album da disegno sono i supporti più importanti per i bambini quali vi consiglio per adesso che sono alle elementari quelli legati con la cuscitura pretagliata perché così l'album così i fogli non vanno a perdersi un consiglio che vi do però una volta che vostro figlio ha finito il disegno e di strapparlo dall'album è di conservarlo in maniera pulita proprio insegnateli a farlo in una carpetta come questa che custodisca i disegni che custodisca in maniera liscia e pulita i disegni del bambino che magari oggi che li sta facendo non vi dicono niente ma tra dieci anni o tra vent'anni vi faranno commuovere solo a guardarli quindi conservateli come album ce ne sono tanti ovviamente a me viene da suggerire la marca nazionale la Fabriano perché sono quelli che mi hanno accompagnato dall'asilo fino ad arte per te quindi per me sono gli album del cuore ma voi comprate quelli che più ritenete opportuni state attenti che le pagine siano acid free e prediligiate per i bambini il foglio semi ruvido o ruvido come carta dovete corredare sempre nella stessa carpetta o comprate direttamente gli album un bell'album da collage perché il collage è una bellissima tecnica da fare con i bambini e se la vostra maestra non ci pensa proponetelo voi il collage come attività didattica perché sta andando perdendosi io per esempio nel primo anno di scuola di Enzo all'elementare non ne ho visto usare invece il collage è una bellissima tecnica e come colla in stick io su tutte senza tema di smentita vi suggerisco la Pritt in stick meglio nei dosatori piccoli perché anche lì i bambini fanno disastri la colla è bene darla alle insegnanti io sprego tutte le insegnanti di mettere il cartellino col nome del bambino e ritirare questi stick di colla e darli solamente al momento dell'utilizzo della colla perché la colla sebbene a base di amido sebbene oramai quasi sempre non nociva è sempre una di quelle cose che può impiastricciare sporcare veramente in maniera sostanziale tutti gli strumenti quindi è un qualcosa che va sempre utilizzata sotto il controllo stretto di un adulto vi consiglio gli stick piccolini li vendono spesso la Lidl in set da 8 da 6 stick perché sono facilmente gestibili dalle manine dei bambini questo tutto quello che i vostri figli devono avere per sviluppare la creatività durante gli anni scolastici senza andare incontro a sprechi a pericoli alla perdita del gusto di creare e disegnare perché questo poi è lo scopo del mio video fornire degli strumenti validi che aiutino i vostri figli ad avere proprio il gusto il divertimento di disegnare questi gli strumenti che secondo me sono divertenti per i bambini e soprattutto tranquillizzanti per le mamme e per le insegnanti bene buona scuola a tutti divertitevi che sia una scuola colorata piena di arte e immagine mi raccomando maestre piena di arte e immagine e noi ci vediamo sempre qua per il prossimo video da ombretta ed arte per te è tutto buona scuola ciao ciao